Si sono conclusi con l'incontro sulla rigenerazione urbana e cantieri aperti promossi dal Movimento Città Aperta che hanno segnato anche il ricordo di Rita Borsellino, la sorella del giudice Paolo, ricordata per il suo impegno politico e per il supporto che la stessa diede a suo tempo all'allora neonato movimento. Una prima giornata dedicata alla promozione della politica dal basso con un incontro moderato dall'ex sindaco di Barcellona Pozzo di Cotto Maria Teresa Collica e al quale ha partecipato anche l'onorevole Claudio Fava, deputato regionale, promotore del Movimento Cento Passi per la Sicilia. Nella seconda giornata, prevista sabato scorso, in un incontro moderato dal consigliere comunale di Avanti Confiducia Raffaella Campos, è parlato di rigenerazione urbana. È intervenuto Antonio Presti, fondatore di Fiumara d'Arte, che ha fatto una vera e propria ragione di vita della rigenerazione del territorio. Prezioso è anche l'intervento di Claudio Lucchesi, direttore di UFO Italia, che ha parlato delle sue tante realizzazioni architettoniche. Spazio anche per le eccellenze del territorio con Alessio Barchitta, del collettivo Floc, il quale ha parlato dei suoi allestimenti per riqualificare in particolare case vecchie ormai degradate anche attraverso il riciclo di materiali. Tonino Privitera ha parlato invece del suo impegno con l'associazione culturale Cannistrà, impegnata nel piccolo borgo barcellonese. Infine Matteo Calabro, esperto di urbanistica, ha presentato il suo progetto per Barcellona Pozzo di Cotto.